Come è stato un problema molto serio per la città? Di grandissimo senso di squadra, di compattezza e di capacità, abbiamo chiuso un accordo con la rete delle ferrovie, individuato una quantità di risorse idonee non solo a superare il pericolo in atto ma a riqualificare l'intera galleria, noi in massimo 10 giorni apriremo la galleria e questo è un risultato davvero molto importante per la città. Sono davvero soddisfatto e voglio ringraziare tutti perché è stato un lavoro di serietà, di abnegazione e di assunzione come sempre di responsabilità importanti. Detto questo ovviamente la delibera di ieri si accompagna anche ad altre misure perché comunque avremo 10 giorni ancora di sofferenza in città, cui poi si accompagneranno un periodo poi complessivo di un'altra due mesi, forse un po' meno, in cui di notte si dovranno fare dei lavori. Quindi comunque si dovranno adottare dei provvedimenti per la notte quando si dovrà lavorare e anche soprattutto per domani sera e per martedì per le due partite del Napoli delle misure importanti per cercare di scongiurare situazioni di grave difficoltà nella mobilità. Poi proprio perché la città ha subito un danno senza averne colpa abbiamo chiesto fortemente a tangenziale al Ministero delle Infrastrutture sino all'apertura della galleria, quindi tutto sommato per scarsi 10 giorni, di poter sospendere il pagamento del pedaggio dei caselli della tangenziale. Ho anche personalmente parlato al telefono del Ministro del Rio, che ovviamente ringrazio anche per la disponibilità di avermi concesso sul punto un'interlocuzione telefonica. Mi hanno detto che avrebbero fatto approfondimenti tipo tecnico e anche di tipo finanziario e insomma attendiamo chiaramente l'esito che sinora, almeno quando sono stato impegnato sinora in Consiglio Metropolitano, non ho avuto però notizie. Chiaramente questa misura ha un senso se interviene questo fine settimana, se già dovesse intervenire lunedì probabilmente è tardi, se è lunedì va bene lo stesso ma ha un senso soprattutto in questi giorni di chiusura della galleria perché serve soprattutto a evitare quelle situazioni di ingorgo che in questi giorni con tutti i sforzi abbiamo messo in campo, un rallentamento in città si è comunque verificato.